Scusi, lei vuole il signor Vanni, subito Vorrete chiamare il signor Vanni nel campo Centralino, trasmette immediatamente la comunicazione nella cabina privata del signor Vanni Un momento prego, viene subito Viene subito, l'hanno messo sotto sopra mezzo stadio Accidenti come li trattano Sì eh Pronto? È il signor Vanni in persona? Attenda un momento prego, c'è la contessa che le vuol parlare Hai fatto male a chiamarmi contessa? Ormai è fatta, parla Oh, sulle duemila lire, molta indifferenza Sì sì, sta a vedere Pronto? Sì, sono io Oh, mi è spiaciuto molto Ma ieri appena mi aveva lasciata Il duca e Dio ricevemmo un invito al quale proprio non potevamo sottrarci Le duemila lire? Oh, per una sciocchezza simile non c'è fretta Me le spedisca Oh, il nome no, oh no, il nome non glielo posso dare Ha ragione Allora? Eh, allora non so Come? Un appuntamento? Fallo cadere dall'alto Eh, non so Io esco così poco e poi sono così illegale Benissimo A casa mia? Ma non se lo so io nemmeno Oh, no, no Oh, no, no, no Per la strada sarebbe imprudente Ma peggio che mai E poi in un caffè Oh, non è simpatico? Beh, adesso daglielo questo appuntamento, poveraccio Senti, allora Ecco, guardi Quasi tutte le mattine a mezzogiorno Io passo Ma senza impegno però, eh Sì, contesta Due minuti Appena è il tempo di regolare il mio debito E presentare il mio segno Grazie, contesta Oh, Marco